...a costi carissimi, carissimi, ed è una situazione che ormai è insostenibile, ma per tutti. Poi naturalmente venisse al gesto del gruppo, questo è per tutti i cittadini. Ma sono difficili, diciamo, per tutti i cittadini, quando si parla, sai, sono preferenze alla fiducia. Ecco perché io, con questo, non sono l'accordo, perché c'è, ed è giusto, ma è convenzibile, anche noi stessi, se fossimo da questo arco, c'è un tema dell'assegnazione, siamo quasi ad assegnare, ecco perché un gruppo di persone, come me, come Enza Maria, zeb, e non sei mai preoccupata di cura, cioè ora, fordita, fordita, basta. Non è po biết aree, è, scuola, asino, schi. E' Grazie. Grazie.